qua resta 5 per 2 alla x questo 2 alla x meno 3 lo posso vedere come 2 alla x diviso 2 alla terza cioè quindi fratto 2 alla terza quindi raccolgo 2 alla x mi resta 5 più un ottavo quindi diventa 8 per 5 è 40 più 1 è 41 quindi è 328 per 8 fratto 41 328 diviso 41 fa 8 quindi diventa 2 alla x uguale a 2 alla sesta cioè x uguale a 6 quindi 3 alla x uguale a 9 3 alla seconda radice di 3 è 3 alla un mezzo e radice quinta di 9 è 3 alla due quinti diventa 3 alla 2 più un mezzo meno due quinti f di 1 f di 1 vuol dire andare a cercare questo è praticamente la mia x f di questa x vuol dire andare a cercare la y quindi vado a cercare la 1 che corrisponde alla x e vado a vedere quanto vale la y di questo punto che vale 0 2 alla f di meno 2 quindi vado a vedere meno 2 il valore della funzione in meno 2 è 0 meno un mezzo vado a vedere qual è la y corrispondente a meno un mezzo quindi vedete parto dalla mia x vado a intercettare la curva e vedo che ordinata ha il punto in questione quindi ha ordinata 2 e quindi fa 9 e poi ho 4 alla f di 2 anche in questo caso vado a cercare il 2 vado a cercare che cosa corrisponde la sua y che è 1 e quindi il risultato è 4 poi ci sono le due equazioni f di 0 se andiamo a cercare lo 0 la sua f va a valore 1 e f di meno un mezzo l'abbiamo già visto fa 2 quindi diventa 2 alla x uguale a 8 x uguale a 3 2 alla f di x uguale a 1 questa è la più interessante quindi 2 alla f di x uguale a 2 alla 0 cioè f di x uguale a 0 ci domandiamo cioè per quali valori di x la funzione assume valore 0 sono 2 e sono x uguale a meno 2 e x uguale a 1 qua per ora riscrivo così questo è 2 alla 5 mezzi fratto 2 alla x visto che c'è il meno quindi pongo 2 alla x uguale a t diventa t meno radice di 2 uguale a 4 meno 2 alla 5 mezzi è come 2 alla seconda per 2 alla 1 mezzo quindi 4 radice di 2 fratto 2 faccio il minimo comune multiplo il denominatore posso tranquillamente mandarlo via perché dovrei mettere come in condizioni normali metterei come condizione di accettabilità che t sia diverso da 0 ma t è uguale a 2 alla x quindi è sicuramente diverso da 0 perché sappiamo che la nostra funzione esponenziale si avvicina a 0 cioè a per asintoto l'asse x ma non lo intercetta mai per risolvere questa equazione a questo punto o avrò a che fare con i radicali doppi per risolvere la mia equazione oppure posso fare un raccoglimento parziale e quindi a questo punto lo svolgimento è più facile perché mi dà t uguale a radice di 2 e t uguale a 4 poi mi ricordo che t è 2 alla x e quindi diventa x uguale a un mezzo la prima soluzione e x uguale a 2 la seconda soluzione questo lo vediamo come 1 fratto 2 alla 2x meno 12 fratto 2 alla x più 32 poniamo 2 alla x uguale a t e quindi diventa 1 fratto t alla seconda meno 12 fratto t più 32 quindi il minimo comune multiplo è t alla seconda che posso tranquillamente eliminare per quanto abbiamo detto prima e quindi diventa 1 meno 12 t più 32 t alla seconda lo mettiamo in ordine e quindi 6 più 2 è 8 resta 1 quarto 6 meno 2 è 4 resta 1 ottavo poi ci ricordiamo che t era 2 alla x e quindi risulta x uguale a meno 2 e x uguale a meno 3 ma possiamo fare due ragionamenti il fatto di dire che l'unico modo per cui questi due siano uguali visto che hanno lo stesso esponente e che abbiano esponente uguale a 0 in modo che diventi 1 uguale a 1 oppure che invece ci salva in tutte le condizioni generali possiamo fare in questo modo dividere tutto per il secondo membro a primo membro ho a questo punto il quoziente di due potenze che hanno lo stesso esponente ma diversa base ed è una potenza che ha per base il quoziente delle basi e per esponente lo stesso esponente quindi a secondo membro lo posso vedere come 5 settimi alla 0 di conseguenza vuol dire che 2x meno 1 deve essere uguale a 0 cioè x uguale a 1 mezzo beh per prima cosa mi porto di là questo ho fatto proprio tutto il passaggio per farvi vedere quindi diventa questo 3 mezzi qua sotto ho 3 alla 2 più 1 mezzo e poi il 4 invece diventa 2 più 1 mezzo perché questo è 2 alla seconda questo è 2 alla 1 mezzo quindi anche qua mi ritrovo in realtà con la proprietà che abbiamo detto prima che è 5 mezzi quindi e qua facciamo giocare la meno così ce lo risolviamo diventa 2 terzi tutto alla 2x e quindi avrò 2x uguale a 5 mezzi cioè x uguale a 5 quarti allora cerchiamo di ridurre tutto in base 2 e poi ce ne preoccupiamo questo diventa 2 alla seconda per x mezzi ok perché è potenza di potenza questo è 2 alla 3 mezzi questo sarebbe un 2 alla terza tutto per 5 sesti quindi a secondo membro faccio la somma degli esponenti quindi x più 3 mezzi più 5 mezzi quindi vuol dire 3 mezzi più 5 mezzi 4 quindi a questo punto è uguale agli esponenti qua per forza le condizioni di accettabilità dovrò metterle e faccio il minimo comune multiplo queste sono le soluzioni qua è tutto in potenza di 5 quindi otterremo appunto un'espressione di x uguale a un'espressione di y qua è tutto in potenza di 2 quindi diventa 2 alla 2y alla seconda uguale 2 alla 4x ed è subito stabilito quello che è il legame tra x e y qua invece 625 sarebbe 25 alla seconda quindi 5 alla quarta per 5 alla seconda alla 2x tratto questo qua è 5 alla 3 mezzi perché 125 è 5 alla terza e questo sarebbe 5 alla meno 1 tutto alla y quindi qua otteniamo 2y alla seconda uguale a 4x e poi qua facciamo le proprietà delle potenze quindi 6x a numeratore e poi meno 3 mezzi il denominatore è uguale a 5 alla meno y quindi qua otteniamo che y alla seconda è uguale a 2x e da qua otteniamo che y è uguale a 3 mezzi meno 6x e quindi diventa y uguale 3 mezzi meno 3y al quadrato sì è vero radice di 5 per un quinto y ecco eh no ecco io quello non ce l'ho ho solo un quinto alla y quindi per radice di 5 ah ecco ok ok quindi qua è meno y più un mezzo che io invece non avevo ecco perché quindi il radice di 19 allora non c'era nessun errore diventa eh meno 6x meno 2 quindi più 2 quindi diventa y uguale a questo punto meno 3y alla seconda più 2 3y alla seconda più y meno 2 uguale a 0 quindi una delle soluzioni è y uguale a meno 1 e lo si vede a occhio e l'altra è 2 terzi anche in questo caso avrò due tipi di disequazioni e per prima cosa dovrò il primo che incontro è quella elementare e devo semplicemente fare in modo che i due membri abbiano lo stesso esponente quindi in questo caso è il 3 nelle disequazioni non posso passare automaticamente al confronto fra gli esponenti se prima non ho ragionato sulla base cioè la base in questo caso ha un ruolo fondamentale perché noi abbiamo imparato che se la base è maggiore di 1 l'esponenziale si comporta in questo modo se è compresa fra 0 e 1 si comporta in questo modo quindi nel primo caso abbiamo una funzione crescente nel secondo caso una funzione decrescente cosa significa? Significa che se io ho due valori x1 e x2 con x1 minore di x2 allora avrò che anche alla x1 e alla x2 mantengono lo stesso la stessa disequazione in questo caso invece se io avessi un x1 minore di x2 essendo la mia funzione decrescente la situazione cambia perché a questo punto cioè scusate sì essendo la funzione decrescente quindi essendo la base minore di 1 in altre parole se voi ripensate al caso un mezzo se lo elevo alla seconda diventa ancora più piccolo che è un quarto mentre se ho il 3 elevato alla seconda diventa più grande quindi questa disequazione cambia il suo verso nel momento in cui dalla base passo all'esponente quindi in questo caso io dico ok bene le basi sono maggiore di 1 cioè la base è 3 ed è maggiore di 1 quindi anche sugli esponenti mantengo lo stesso verso della disequazione e quindi poi vado a risolvere la disequazione e questo qua è la conclusione nel 274 se vogliamo le cose cambiano un po' cioè io qua ho un 2 quinti beh qua in realtà cambia a seconda di quale base scelgo io qua scelgo come base quella di 2 quinti così appunto arriviamo a quello che mi interessa e questo qua sarà un 2 quinti sarebbe 2 quinti alla meno 1 quindi 2 quinti alla meno x più 2 e allora in questo caso siccome la base è minore di 1 cambia il verso della disequazione quindi diventa 2x maggiore di meno 1 x maggiore di meno un mezzo le cose non sarebbero cambiate neanche se io avessi tenuto come base 5 mezzi quindi qua avrei scritto 5 mezzi alla meno x meno 3 minore di 5 mezzi alla x meno 2 qua avrei mantenuto il verso della disequazione tra i due esponenti mi sarei ritrovata con meno 2x minore di 1 e dividendo tutto per un coefficiente negativo vi ricordo che cambia il verso della disequazione e quindi ci saremmo ancora ritrovati al nostro x maggiore di meno un mezzo che abbiamo trovato prima il 288 la cosa magari si fa un po' più difficile per certi aspetti quando dobbiamo fare il cambiamento di variabile quindi pongo 3 quinti alla x uguale a t perché questo in realtà è 3 quinti tutto alla seconda e quindi diventa 34t minore di 25 per t alla seconda più 9 prima studio l'andamento della mia disequazione io ragiono sulla mia parabola che è rivolta verso l'alto e mi chiedono le a questo punto soluzioni esterne quindi t minore di 9 venticinquesimi e t maggiore di 1 adesso mi ricordo che t era 3 quinti alla x quindi questo è un 3 quinti alla seconda e questo è un 3 quinti alla 0 ma 3 quinti è minore di 1 quindi cambia il verso delle disequazioni e quindi diventa x maggiore di 2 vel x minore di 0 che noi in realtà scriviamo in questo modo perché andiamo dal minore al maggiore quindi anche qua pongo 2 alla x uguale a t vabbè qua in realtà potrei semplificare tutto per per 2 così a meno ci togliamo un po' allora diventa 2 fratto t meno 4 meno 1 fratto t meno 2 minimo comune multiplo vi ricordo che quando abbiamo a che fare con le disequazioni non possiamo impunemente mandar via il denominatore quindi diventa 2t meno 4 meno t più 4 quindi resta t fratto t meno 4 per t meno 2 ma il nostro numeratore è di fatto uguale a 2 alla x e 2 alla x è maggiore di 0 qualsiasi sia il valore di x perché vi ricordo che la nostra funzione esponenziale si trova nel primo e secondo quadrante quindi di fatto siccome il denominatore se ne può tranquillamente andare questo resta il testo della mia disequazione quindi le due soluzioni sono 4 e 2 e quindi t risulta compreso fra 2 e 4 quindi a questo punto mi ricordo chi t è il nostro 2 alla x e quindi passo agli esponenti in questo caso 9 alla x è in realtà 3 alla 2 x quindi qua resta 3 alla 2 x più 3 alla 2 x che vuol dire 2 per 3 alla 2 x quindi andandosene questo 2 non abbiamo più a che fare con una potenza di base diversa da 3 non solo abbiamo anche questa situazione che 9 e 27 si possono semplificare quindi mi resta qua 3 alla meno x meno 2 x quindi 3 alla meno 3 x maggiore di 3 alla 1 qua la base è maggiore di 1 quindi mantengo il verso della disequazione sugli esponenti e quindi dividendo poi per un numero negativo cambio il verso e diventa x minore di meno 1 terzo qua abbiamo i due fattori non va svolto il prodotto qua abbiamo il nostro primo fattore e qua abbiamo il secondo fattore vi ricordo che entrambi i fattori vanno posti maggiore o uguale di 0 ecco uguale se qua c'è l'uguale ma che ci sia maggiore o minore io li pongo sempre maggiore di 0 quindi diventa 3 alla 2 meno x maggiore o uguale di 27 27 è 3 alla terza quindi resta 2 meno x maggiore o uguale di 3 e quindi risulta essere x minore o uguale di meno 1 sempre perché cambio il verso della disequazione visto che il coefficiente della x è negativo secondo fattore meno 4 alla x che vuol dire meno 2 alla 2x maggiore o uguale di meno un mezzo che è 2 alla meno 1 quindi diventa 2 alla 2x minore o uguale di 2 alla meno 1 perché ho diviso tutto per meno 1 ho cambiato segno a tutti i membri e quindi poi confrontando gli esponenti visto e considerato che la base è maggiore di 1 resta x minore o uguale di meno un mezzo e adesso vado a fare lo studio dei segni sono entrambi compresi quindi ho il primo fattore che qua è positivo ed è negativo negli altri casi il secondo fattore positivo per x minore o uguale di meno un mezzo quindi più per più 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 per meno 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 per meno più mi interessa il maggiore o uguale quindi vado a prendere i più e quindi risulta minore o uguale di meno 1 maggiore o uguale di meno un mezzo grazie a tutti